Stesso timoniere, stessa voglia di vincere che ha caratterizzato la vigilia della sfida casalinga di sei giorni fa contro l'Agropoli. Il Gravina dunque riparte con Vincenzo Silvestri in panchina. Colui che è stato il vice di Claudio De Luca sino alla separazione consensuale tra tecnico e società, ha convinto in maniera definitiva la dirigenza murgiana e sarà il capo allenatore dei giallo blusino al termine di questo campionato di Serie D. Molto ha fatto in termini di fiducia acquisita il rotondo successo 4-0 ottenuto domenica scorsa contro i Campani. Al resto ci ha pensato la perfetta conoscenza di pregi e difetti del gruppo con cui Silvestri ha lavorato in pratica dall'inizio della stagione. Prossima fermata intanto Picerno, stadio comunale Curcio inizio alle ore 14.30. È lì che farà tappa la voglia del Gravina di ritrovare il feeling con la vittoria anche nel formato trasferta. Missione non semplice al cospetto di una squadra che sta battagliando per evitare i play-out. Missione al tempo stesso tutt'altro che proibitiva per un organico che ha valori indiscutibili dal punto di vista tecnico e che non ha più intenzione di concedersi sbandamenti. Se il primo posto è ormai fuori dalla portata, la piazza d'onore, privilegio non indifferente in chiave play-off, è invece un traguardo raggiungibile ed è distante al momento. Soltanto 5 lunghezze. Silvestri intanto non avrà a disposizione per l'impegno con i Lucani, Guadalupi, Danna e Caputo. Tutti ai box per infortunio. Ha nel proprio mirino il settimo risultato utile consecutivo. Il Manfredonia che proverà a conservare l'imbattibilità nel 2017 sfidando fuori casa il Biceglie. Abbinamenti, almeno sulla carta, decisamente più semplici per le altre portacolori della provincia di Foggia. La madre pietra a Pricena ospiterà il Cinzia. Il Sansevero farà visita al città di Ciampino. Il match più complicato della 24esima giornata per quanto concerne il programma delle pugliesi spetta al Nardò. I Salentini, in piena corsa per accedere ai playoff, saranno di scena al San Francesco sul campo della vicecapolista nocerina.